Allora, eccoci qua con un pacchetto ultimate regalato dalla EA Pacchetto mega Pacchetto di... Capito? Pacchetto di gioco delle rari, però Vediamo chi potemo trovare Un Kanté, un Messi, un Bappé, un Ronaldo, un Giovelli Se poi c'è qualcun altro, non so chi Vabbè, questi Ah, ok, interessante Vabbè, prima apriamo pacchetto di gioco delle rari Ora... Mamma, non so cosa me la parla Apre Niente Bel gioco di... Vabbè, da Cominciamo Kandome mi dà qualcosa di buono a questo gioco Morillo e Raman Interessante, i grandi giocatori Proprio grandi giocatori Pacchetto mega Vediamo chi c'è da Giotto rari, vedete chi c'è da E' curioso Oh, è qualche altro, però è arancione Che è? Inglese? Cicci? Ma chi è? Ma io so... Sopdenton Mamma mia Ah, WorldPro Ma che c'è te fa? Mamma mia Beh, vabbè, però, 84 è buono Però, mamma mia Siamo sprecati di gioco Vabbè, qui 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 Non affano, ciao Il pacchetto è più interessante So poco curioso qui c'è me, dai So poco curioso, so qua, guarda So poco curioso Walk out, però, una bandiera un po' strana O francese Ottt Mamma pleo Mamma O Turano Ma pleo, 87 Ma che c'è dopo? Tanti giocatori buoni mi hanno dato pleo Pleo, ma che c'è dopo? 87 Mamma mia, mi sei sprecato, dai, ti giuro Tu sprecato Dennis, Miranda Ma mamma mia, ti sei sprecato Ti sei proprio sprecato, dai, dai Rulli di tamburi, qua No, andavo Cardona Andavo giù Mamma mia Arrivederci